Nella puntata di Pronto Medicina Facile di ieri su Rete8 si è fatto il punto della situazione sulla diffusione delle varianti del SARS-CoV-2 sull'efficacia dei vaccini anticovid e sui casi di reinfezione. Nello studio di Paolo Castignani ospite il professor Riborio Stupia, direttore del Laboratorio di Genetica Molecolare Diagnosi COVID-19 dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara che ha anticipato dati importanti di alcuni studi elaborati dalla sua echipa e in redazione Gigliola Edmondo ha raccolto le domande dei telespettatori al telefono e le mail che sono state girate all'esperto. Quante varianti conosciamo oggi? Allora un virus, una variante del virus non è una mutazione del virus, è un insieme di mutazioni. Tutti quei fiocchetti colorati che vedete vuol dire che rispetto alla sequenza originale del virus T1, questa è solo la proteina S e la proteina S del virus è quella famosa verso cui sono prodotti i vaccini per intenderci ed è la proteina che si lega ai recettori del nostro organismo. Allora dove vedete i fiocchetti colorati vuol dire che lì la sequenza è cambiata e a destra si vede un filo verde che quello è il recettore umano e si vede che ci sono dei fiocchetti beige che vuol dire che le varianti sono caratterizzate da mutazioni proprio nella regione in cui la proteina S si lega ai nostri recettori. Quelle varianti configurano una maggiore capacità del virus di legarsi, questa è una variante inglese per cui in realtà spiega perché questa variante inglese è più infettiva, perché si lega più facilmente. Quindi la variante non è una mutazione, è un insieme di mutazioni. Ogni tipo di variante, l'inglese, la brasiliana, la sudafricana, la nigeriana, adesso abbiamo un indiano, è caratterizzata da una serie di mutazioni. Quindi noi ogni volta andiamo a caratterizzarle sequenziando tutto il genoma virale possiamo dire che questo virus appartiene a questo ceppo. Quante varianti abbiamo? Tantissime, quelle che però ci interessano sono quelle che vengono chiamate VOC, cioè dal termine inglese variant of concern, cioè varianti di preoccupazione. Una volta erano solo tre, che erano l'inglese, la brasiliana e la sudafricana. Adesso c'è l'indiana. C'è l'indiana, c'è la nigeriana, c'è una sottoclasse di inglese, insomma sono diventate almeno sette. E poi ci sono invece le VOC, che sono le varianti of interest, cioè quelle da monitorare ma che ancora non ci preoccupano. Ogni tanto esce qualche variante, adesso mi perdono il termine perché tanto noi le chiamiamo le varianti sfigate, tipo una che abbiamo trovato noi due settimane fa, la variante egiziana. E' egiziana, infatti su questo avete trovato i due casi mi sembra. Due casi, ma alla fine non hanno dato nessun focolaio.